c'era una volta un ragazzo che vedendo la propria fidanzata defunta e non volendo accettare la sua morte pensò che fosse ancora viva e nonostante il padre gli avesse ripetuto più e più volte di andare avanti ed essere felice come anche la sua amata avrebbe voluto lui decise lo stesso di continuare ad aspettare la sua ragazza poiché pensava fosse viva e che fosse semplicemente andata per svolgere delle questioni urgenti dalle quali una volta finite avrebbe fatto ritorno così il ragazzo aspettò e aspettò a lungo finché all'età di 78 anni morì di nostalgia solo come un cane una volta morto si ritrovò in paradiso e lì scoprì che la sua ragazza se la stava spassando con un altro uno degli angeli del paradiso in quel momento il poveretto voleva morire per il dolore ma non poteva perché era già morto così decise di andare a chiedere spiegazioni alla sua ormai non più ragazza questa gli rispose che le loro vite non erano legate e che anche se vorremmo avere sempre al nostro fianco alcune persone queste alla fine non ci appartengono visto che ognuno ha la sua strada da percorrere nel cammino della vita e questa strada è solo nostra non appartiene a nessun altro udite queste parole il ragazzo capì e si mise in un angolino del paradiso a piangere in un angolino di quel paradiso che per lui era diventato un inferno avrebbe tanto voluto sparire ma purtroppo non poteva doveva stare lì in eterno fine c'era una volta un ragazzino il cui sogno più grande era quello di essere rispettato dalle altre persone questo ragazzino si alzava spesso in compagnia dei suoi pensieri pessimistici che lo facevano sentire un perdente anche per via del fatto che non aveva legato con nessuno dei suoi coetanei che gli sembravano quasi non interessarsi minimamente a lui inoltre era così insicuro da non parlare quasi mai con i suoi compagni di scuola o con i ragazzi della sua età in quanto aveva sempre la paura di dire qualcosa di stupido ogni tanto incappava in lucy una ragazzetta che si divertiva a insultarlo continuando a ripetergli quanto fosse una nullità il ragazzo pensava che lei avesse ragione e di meritarsi tale accuse quindi ogni qualvolta lei lo denigrava lui stava lì ad ascoltarla senza nemmeno arrabbiarsi davanti alle sue ingiustificate cattiverie ed accuse infatti anche se più di ogni altra cosa al mondo desiderava essere rispettato dagli altri sentiva di non averne il diritto quindi continuava a relazionarsi anche con chi lo maltrattava improvvisamente come per magia un bel giorno il ragazzo si vide per la prima volta allo specchio e si innamorò pazzamente di sé da quel momento capì che se voleva avere più probabilità di essere rispettato dagli altri doveva essere lui in primis a rispettare se stesso e a darsi valore capendo questo con il tempo riuscì a legare con i compagni di scuola e a farsi vedere per la persona bella che era e che da sempre era rimasta nascosta dalla sua scarsa autostima per giunta lucy che tanto l'aveva preso in giro aveva smesso di farlo forse perché vedendo che in lui era aumentata l'autostima non sentiva più il bisogno di prenderlo di mira o forse anche più probabile perché siccome si era tolta la vita in quanto non si sentiva amata non poteva più prenderlo in giro qualunque fosse il vero motivo sta di fatto che da quando il ragazzo imparò a rispettarsi imparò anche a farsi rispettare e perfino a farsi amare dagli altri e soprattutto da se stesso al punto da farsi una proposta di matrimonio una volta sposatosi con se stesso disse per sempre felice e contento come ormai la povera lucy non poteva più fare